Parlo a nome dei colleghi direttori delle agenzie regionali e delle province autonome, siamo direttori di enti strumentali delle regioni e delle province autonome, enti che hanno diverse maggioranze politiche, ma siamo tutti profondamente molto coesi nel senso di appartenenza del sistema e nella richiesta che questa nostra esigenza venga normata in modo appropriato. Sulla base di questo la conferma del Presidente del Bernardinis non è soltanto per me un motivo di gioia personale per l'apprezzamento dell'uomo, dell'amico e per l'apprezzamento del ricercatore, ma anche un segnale molto forte di vitalità di un sistema che in questi mesi aveva, non te lo nego, dubitato della possibilità che il sistema possa svilupparsi in una situazione a cefala come quella che si era determinata, quindi una grandissima gioia. Io parlo con la mia prima parte e sostanzialmente quasi tutte le slide sono state prodotte dal gruppo di lavoro coordinato dal Dottor Luca Marchesi di Arpa Lombardia, ho aggiunto una parte non politicamente corretta alla fine della presentazione, perché in quella esprimerò proprio pensieri nemmeno dell'agenzia, ma proprio miei personali. Dal punto di vista della tipologia del sistema, una serie di numeri dal punto di vista fotografico, il sistema è molto asimmetrico, ma comunque c'è stata una fortissima crescita, in questi vent'anni la capacità di rispondere alle pressioni ambientali non è confrontabile rispetto all'epoca precedente. Cioè la nascita di questo insieme, che non era sistema, ma che era una sommatoria di agenzie regionali delle province autonome, comunque ha prodotto una formidabile discontinuità rispetto al passato. Noi abbiamo quasi 10.000 addetti, un numero molto elevato di sedi e siamo quindi in questo contesto cresciuti e abbiamo purtroppo, ovviamente siamo cresciuti in modo molto asimmetrico e lo vedremo, abbiamo purtroppo all'interno delle nostre agenzie come all'interno di ISPRA, una parte di personale ancora a tempo determinato, questo è un elemento di criticità del sistema. Abbiamo avuto una crescita soprattutto del personale di comparto, di dirigenza, una riduzione del personale dei dirigenti che è un indicatore, questa differenza di segno tra comparto e dirigenza è un fatto certamente positivo. Ovviamente, vedete in queste slide c'è un T con 0 e poi ci sono delle date che sono 2009-2012, il T con 0 è diverso nelle diverse regioni, l'ARPA Emilia Romagna del 2006, forse l'ARPA Toscana l'ha battuta di qualche mese, Alessandro, mi sembra che l'ARPA Toscana sia nata prima, 2003 l'ARPA Emilia di tre mesi, tra le ultime c'è l'ARPA che dirigo io 2003 e l'ARPA Sardegna è l'ultima del 2006, ovviamente è evidente che le agenzie che sono partite dopo hanno potuto fare un numero di chilometri inferiore, ha ammesso che le risorse, che si possono determinare una situazione di risorse che ovviamente è esattamente l'opposto della realtà. Ovviamente questa non è colpa di Roma ladrona, di Milano ladrona, né di Bologna o Firenze, è colpa delle regioni meridionali, potevano partire prima, potevano partire meglio, ma questo è un problema politico della qualità delle classi dirigenti meridionali. Quanto costano? Costano abbastanza, quasi 600 milioni di Euro, non è poco, quindi è una risorsa finanziaria importante che bisogna valutare e la maggior parte deriva dal fondo sanitario delle specifiche regioni, con contributo marginale di altri settori. Il costo per cittadino è tutto sommato esiguo ed è comunque in discesa, negli ultimi tre anni calato del 10% che corrisponde a una sorta di auto spending review che il sistema si è dato pur in situazioni di aumento di pressioni ambientali e di necessità di fornire prestazioni ambientali. Qualche numero sulle attività, quasi 100 mila ispezioni di sopralluoghi, quasi 75 mila attività istruttorie o pareri, anche queste sono attività in crescendo, con un numero molto alto di attività nei laboratori, 630 mila campioni, buona parte di natura prettamente ambientale, il che rappresenta la profonda discontinuità con il mondo lontano di appartenenza dei presidi multizionali di prevenzione, un numero di parametri molto elevato. Anche un sistema che non soltanto quantitativamente elevato, ma anche qualitativamente elevato, 14 agenzie sono accreditate ISO 1725 e quindi con laboratori accreditati da Accredia, ultima importante è la Calabria che è la quattordicesima, ma ultima soltanto dal punto di vista cronologico, ma l'importanza dell'accreditamento degli laboratori delle arpa meridionali è di critica rilevanza. Abbiamo una serie di attività che svolgiamo in modo coordinato, molto importanti, di scambi di buone pratiche, gruppi di lavoro, linee guida, manuali di buona prassi, riuso di applicativi, formazioni comune che dovrebbe essere probabilmente potenziata. Poi abbiamo una situazione, se uno guarda più nel dettaglio, molto, come è stato detto, asimmetrica, un sistema che è performante, ma ci sono delle sofferenze. Ci sono problemi di risorse finanziarie, particolarmente sull'area da Roma inclusa giù, situazioni soprattutto legate all'insufficienza delle risorse umane, a volte si hanno le risorse finanziarie, ma l'impossibilità prodotta dai limiti normativi sull'acquisizione di risorse umane non consentono di utilizzare le risorse finanziarie. I Csidi siamo in una situazione in cui aumentano le esigenze prestazionali e quindi l'esigenza di investire molto sulla qualità, che costa molto, qualità non è facile da raggiungere, difficile da mantenere e comunque costa moltissimo. Il sistema quindi in qualche modo a macchia di leopardo con profonde asimmetria, più velocità, ma tutto è comunque caratterizzato da una fortissima crescita. Rapidamente i dati sintetici per abitanti, gli abitanti serviti per singolo addetto 6.230 o analogamente, questi sono dati abbastanza poco informativi forse, ma quello che importa è vedere l'eterogeneità geografica e in cui vedete ovviamente la forte penalizzazione del sud, sia con ciascuno degli indicatori che possono essere adottati. Le dotazioni organiche, vedete che abbiamo detto che quasi il 75% è caratterizzato da personale di ruolo, ma qui con profonda eterogeneità, solo il 57% nel sud e l'88% del nord, quindi con un'ulteriore caratterizzazione di criticità caratterizzata appunto da questa carenza essenzialmente di persone. Quindi un sistema certamente da rafforzare, che soltanto il sistema con una politica ambientale nazionale, la definizione di livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali e quindi la garanzia perché ciascuna componente del sistema possa svolgere in modo coordinato l'attività di sistema, questo ovviamente è di primaria importanza. Crediamo molto nella istituzione, nel sistema nazionale di protezione dell'ambiente che risolverebbe parte almeno di questi problemi. Qui comincia la parte mia e la qualità delle slide, purtroppo è nettamente inferiore. Il rapporto Ox del 2011, di cui non si è molto parlato, aveva sull'Italia, aveva un capitolo sull'ambiente e uno in particolare, un lungo paragrafo sulle agenzie ambientali. Nell'obiettivo di sviluppare la governance giusta, indicava una criticità nel sistema dell'agenzia, una frammentazione del reporting e tra le autorità di controllo ambientale, per cui i dati non possono essere uniformi in tutto il Paese, una circostanza che impedisce di realizzare miglioramenti del benchmarking. Ora, questo è del 2011, probabilmente l'attività ricognitiva era dell'anno precedente, abbiamo fatto degli sforzi e dei progressi formidabili negli ultimi 4-5 anni, di cui questa relazione in qualche modo è testimonianza. Tra le altre cose c'era la ovvia constatazione, che risulta anche dalla relazione, della variabilità delle capacità analitiche delle ARPA, a causa delle dimensioni e disponibilità economiche variabili da regione a regione. Si diceva nel rapporto che i rappresentanti delle ARPA si incontrano molte volte, per la verità non tante volte l'anno, sotto legge dell'agenzia nazionale Ispra, ma il coordinamento non si traduce in attività congiunte a livello tecnico. Questo non è vero, perché negli ultimi anni c'è stata una formidabile attività, non solo promossa dal Consiglio federale, ma gestita dal Comitato tecnico permanente, costituito dai direttori scientifici, che ha prodotto prodotti, linee guida, una serie di attività che poi a livello di Consiglio federale abbiamo tutti siglato e ciascun direttore generale si è impegnato a recepire a livello della singola agenzia i prodotti di sistema sviluppati. Quindi nonostante la logica del decentramento si può argomentare, questa è una cosa grave, a favore di una reintegrazione delle app in una rete nazionale più strutturata, se ciò facesse aumentare l'efficienza complessiva, riducendo inutili duplicazioni di iniziative tecniche in alcuni settori. Riproponendo in qualche modo una sorta di centralizzazione delle funzioni di alcune app poco performanti. Questo è un problema a cui un approccio di sistema può dare risposta anche attraverso l'integrazione tra app vicine in una logica di macro regione o con la sussidiarietà di Ispra in modo da mantenere la logica del sistema. il problema è quale modello di governance è giusto per rispondere al problema dell'Ocse, questo è il compito vostro di legislatore. Quale ruolo per il sistema nazionale di protezione ambientale? Ci sono tre possibili approcci che possono anche essere gestiti in modo ibrido, che però con profonde problematiche legate alla gestione di sistemi ibridi. Quella tradizionale di controllo del comando, vigilanza, polizia giudiziaria, quello in cui io credo, dell'organo tecnico indipendente caratterizzato da autorevolezza scientifica, volto alla promozione della sostenibilità e della qualità delle imprese, quella di cui ha bisogno il sistema paese, aperto a confronto con le associazioni. E poi c'è un'altra funzione che è estremamente pericolosa, quella di assunzione di funzioni autorizzative. Ora, noi non riusciamo nemmeno a presidiare la funzione B, quella di organo tecnico scientifico. Ieri sera ho ricevuto un invito da partecipare a un convegno nazionale che sciaguratamente si terrà a Bari il 15 aprile, organizzato da una rete sostanzialmente parallela al nostro sistema, e qui c'è un problema di spending review, una rete pubblica centrata sull'Istat e con i comuni e con la collaborazione esterna di Lega Ambiente. L'argomento è il sistema di qualità dell'ambiente urbano con esperti dell'Istat che si occupano di aria, acqua, suolo, rifiuti, energia. E qui il problema è un problema veramente da spending review, qui siamo proprio nel caso della duplicità di funzioni. Com'è possibile che questo si determini in un sistema paese? Cioè poi c'era l'invito a me, come direttore dell'agenzia, ad entrare in questa rete. Oggettivamente è assolutamente folle, ci sono delle spese e a questo punto si scelga, il legislatore scelga se puntare su questo sistema alternativo Istat comuni, che poi sono alcuni comuni volontari, col sostegno di alcune associazioni, oppure il sistema nazionale per la protezione ambientale, perché non è possibile. Quindi capite, se non riusciamo nemmeno a presidiare il punto B, trovarsi costretti a cogestire questi tre diversi approcci di governance diventa estremamente pericoloso. Già soltanto con la coesistenza dei primi due ha portato a notevoli rischi, le agenzie e nello specifico chi le dirige. La coesistenza viceversa di tutti e tre approcci nei ruoli normativamente affidati all'ARPA ovviamente renderà necessario per chi vorrà svolgere funzioni direttive delle agenzie per la protezione ambientale, avere almeno il curriculum del professor Coppi o del professor Taormina, altrimenti sarebbe un masochista che senza quelle caratteristiche curriculari possa ambire e ricoprire questi ruoli, svolgendo queste tre funzioni contemporaneamente. Questo è il mio approccio, ma è un elemento che offro alla discussione pubblica, so che ci sono punti di vista differenti, è bene però che si sia almeno la consapevolezza dell'esistente di criticità in un approccio ibrido di questo tipo. Grazie.